Le statistiche dimostrano il 78% dei genitori ancora ad oggi è ignaro dei cybercrime che oggigiorno durante la navigazione i ragazzi possono incorrere. Quindi è importante per noi diffondere la conoscenza per alzare anche un livello di consapevolezza. Ecco lo scopo del progetto Guida Sicura sul web connessi contro la violenza, un progetto di educazione all'uso consapevole di internet per le scuole secondarie di primo grado, curato dalla dottoressa Elisa Marcheselli in collaborazione con il Comune di Arezzo, l'azione cattolica e il sostegno di Estra. Sì è un modo per entrare nelle scuole con dei contenuti importanti facendo riferimento a una strategia che ormai la Giunta da molto tempo segue che è quella di dare informazioni corrette per essere connessi ma connessi in maniera giusta e soprattutto per avere una declinazione moderna dell'educazione civica. Estra è un'azienda che ha al proprio interno anche un ramo dedicato alle TLC e sentendo una forte responsabilità sociale di impresa ci piace sostenere questi buoni progetti dell'amministrazione Ghinelli e di Lucia Tanti che partono da valori di riferimento importanti e che arrivano ad un'azione assolutamente efficace che può contribuire a migliorare l'educazione telematica. è ormai un luogo assolutamente frequentato da tutti e lì dobbiamo lavorare. L'intervento sarà rivolto su tre livelli, appunto sugli alunni, i ragazzi, sugli insegnanti e sui genitori. Proprio in merito anche a quanto sono state le linee guida scritte all'interno della legge sul cyberbullismo maggio del 2017, quindi sappiamo che oggigiorno un intervento per essere efficace deve essere su questi tre livelli proprio perché i genitori hanno bisogno di alcune conoscenze che gli vengono trasmesse, i ragazzi hanno bisogno di alcune consapevolezze da aprire e gli insegnanti hanno bisogno anche di un supporto per gestire questa rivoluzione digitale che non mai impatta tutti i settori di vita. Abbiamo iniziato questo progetto grazie alla collaborazione della dottoressa Marcheselli e della nostra amministrazione e che speriamo di poter ampliare in futuro e portare avanti per il bene di tutta la nostra comunità.